A nessuno sfugge che respiriamo aria di paura, paura dell'altro, del diverso, dello straniero, di chi ha la pelle nera. Lo scontro, la rabbia, la diffidenza e persino l'odio prendono sempre più forme e continuano ad inquinare il senso di umanità delle nuove generazioni. Il messaggio dell'arcivesco di Foggia Vincenzo Pelvi alla città nel giorno in cui si festeggia la patrona, l'icona vetere. Una festa preceduta, come vuole, alla tradizione della processione che si è snodata dalla parrocchia di San Giovanni Battista fino in cattedrale, attraverso le principali vie della città. Il 21 marzo del 1731 l'icona si trovava nella chiesa di San Giovanni Battista, dove era stata portata per il violentissimo terremoto che aveva distrutto mezza città. Il 22 marzo, mentre tutto il popolo stava partecipando alla Santa Messa, nella piccola finestra ogivale del Sacro Tavolo apparve il volto della Vergine Madre, tre testimoni del miracolo, anche Alfonso degli Uori, che ebbe il privilegio di vedere la Madonna che appariva come una giovinetta di 13-14 anni col capo coperto di velo bianco. La leggenda racconta che l'icona della Madonna fu trovata nel 1062 da alcuni contadini che conducevano i buoi alla Beverata in un pantano vicino a dove oggi sorge la cattedrale. Nella melma i contadini trovarono un tavolo con il volto di una Madonna avvolto in teli. Il tavolo fu portato in una taverna dove il quadro fu venerato dai tanti forestieri che iniziarono a chiamarla Sancta Maria de Focis. Una Madonna, quella dell'icona vetere che, come si è augurato Monsignor Pelvi, possa far riscoprire al territorio la fraternità come abbraccio del Signore per l'intera umanità.